A chi parlerà contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Né in questo mondo né in quello futuro. Perché noi siamo chiamati a vedere, sì, ma dobbiamo anche saper guardare, dobbiamo saper intendere, perché ci sono approcci diversi che possiamo mettere in campo nell'osservare. C'è sempre un ruolo anche da parte nostra. Lo spettatore non è mai solamente spettatore. E poi non possiamo in nessun modo escluderci dalla possibilità, anzi direi dalla necessità di operare un giudizio, di guardare prendendo posizione. Dobbiamo saper giudicare. Gesù opera una guarigione. Tanti sono lì, vedono e giudicano e condannano. Ma alcuni si muovono invece nella direzione di riconoscervi la visita di Dio, mentre appunto altri pensano di poter addirittura riconoscere la presenza del male assoluto. Per questo sono così dure le parole di Gesù, perché ci dice che non riuscire a vedere il bello laddove c'è, laddove è visibile, laddove ci sono segni promettenti del regno di Dio. E' davvero un peccato, è davvero un peccato. È tristezza ed è peccaminoso non riuscire a vedere la grazia che si espande. Grazia buttata è in fondo un po' indurimento del cuore. Quanto spesso questi testi del tempo di avvento ci invitano a sperare, a lanciare lo sguardo in avanti, a raccogliere lampi di speranza. Lo fanno spesso i testi, tanto quanto ci scuotono i testi di questo periodo, altrettanto ci spingono ad alzare lo sguardo, a vedere qualcosa che giunge. Insomma, per quanto sia dura la nostra vita, abbiamo ragione per cercare le tracce di una stella che brilla, che ci conduce a Betlemme, come è accaduto per i magi. Ecco, guardiamo già ora, perché questi segni ci sono, la stella ci accompagna già in questo momento. Buona giornata. Buona giornata.